Videorun.it, una splendida opportunità, è il nostro primo Natale, la prima volta che festeggiamo assieme questa meravigliosa festa, la festa di noi cattolici, di noi cristiani e Videorun non poteva mancare di augurarvi un Natale sereno, serenissimo. Martina, sono soprattutto questi momenti che fanno la differenza, sono momenti di raccoglimento, quel senso di famiglia, quel senso dello stare insieme, è perché lo stare anche in nostra compagnia. Posso svelarlo, stiamo proprio venendo da un momento di massima socialità che è stata appunto la passeggiata che abbiamo fatto inaugurare. Poi la presenteremo via video. Sì, ci saranno molti video che Marco ha fatto durante questa gara, diciamo, che possiamo definire così, è stata una... Non garantisco nulla dal punto di vista della qualità, lo sai, ecco, mi metto le mani avanti. Ormai è diventato un operatore a tutti i rispetti. Ma non mi piace, anzi vi invito, fatele anche voi. A volte lo vedete, presentare, riprendere, fare tutto da solo... Faccio tutto. Un po' voglio non servire a più se non per i capelli. Fortuna, almeno ci sta una che compensa. Ad ogni modo, sì, siamo felici di poter festeggiare questo primo Natale insieme a tutti i nostri amici che ci seguono. Anzi, vi invitiamo a questo punto a mandarci tutti i video di auguri, qualcuno già ci è arrivato. Tutti i vostri momenti, societari e non, in cui volete fare gli auguri, volete condividere con noi questo Natale, questo vostro Natale, noi siamo felici di prenderli e li pubblicheremo direttamente sulle nostre pagine Facebook. Come siamo felici, felicissimi, perché abbiamo dei tifosi speciali. Sì. Li abbiamo incontrati qualche giorno fa, ci hanno voluto fare una dedica speciale, quindi restate lì, perché a di là del momento Martina e Marco c'è un momento decisamente più accattivante che vivremo tra poco. Sì, direi che siamo diventati così famosi, ma i vari chiari confini. Un mix di internazionalità e di festa del Natale. Poi capirete perché. Auguri Martina, sereno Natale a te, sereno Natale a chi ami, sereno Natale a voi, sereno Natale a chi portate nel cuore. Idova.it Con noi. Buon Natale. Buongiorno, buongiorno. Le uomo sapiensi, le 7 miliardi del mondo. Facciamo una presenta di due persone carissime, Marco e Martina, per una città che tutti quanti devono sapere, videoram.it. Facciamo una buona auguri per videoram.it. Si trova a internet perché questa area è l'area tecnologica, videoram.it. Non dimenticare, Marco Martina. Ragazzi, guarda, andate, vedere, videoram.it. Martina, professionista, Marco, grande uomo, popolarissima, videoram.it. Andate a vedere, interessante, divertente, istruttivo, videoram.it. Marco, l'iniziativa, Martina, l'iniziatista, videoram.it. Andate a vedere, Italia, Napoli, Italia. Andate a vedere, grande uomo, con la copia, mm. Marco, marco, martina, videoram.it. Videoram.it. Yamanji. Oh, che l'ambo. Abbiamo a fare.